Tutte cose della Inter a tutti ragazzi, oggi siamo qui con il nostro piccolo maialino, io sono Davide Giovanni e lui è un maialino invece. Oggi perché sono qui davanti a lui, non per costruire lui una casa, ormai la sua casa è questa qui, questo pozzo, ma per andare a fare una cosa molto interessante. Difatti, se vi... seriamente, oh, ogni volta che registro deve piovere, porca puttana. Dal momento che io sono evidentemente stupido, ho perso le coordinate dello spawn di ragni che avevo trovato. Esatto, sì, quello di cui vi parla in inizio serie, ma che non inquadrei mai in video, perché sì. E niente, quindi oggi sfrutteremo un glitch per l'X-Ray, che così vi mostro anche, per trovare il nostro spawner di scheletri che tanto mi manca. Quello che ci servirà sarà semplicemente una canna da pesca, una carota e una sella. Tutte cose che ho qui, per di qui, quindi ho le carote qua e c'ho la canna da pesca e la sella, ce ne ho di qua. Un'altra cosa di cui volevo parlarvi è che in qualche modo ho duplicato la canna da pesca. Non so come ho fatto, non so come ci sono riuscito, ma ho duplicato la canna da pesca. Come è successo? Praticamente ho messo la canna da pesca nella cassa e poi ho chiuso il gioco, praticamente subito. Dal menu rapido l'ho chiuso. In qualche maniera ho duplicato così la canna da pesca, perché quando poi sono rientrato in game ce l'avevo una qua dentro nella cassa e una ce l'avevo in mano. Non so come ho fatto, comunque è successo. Non era una cosa voluta, però è capitata e adesso non so se mi fa fare il crafting anche con le canne da pesca usate. Parentesi, ho messo qua uno stone grinder per in modo da poter prendere i livelli dalla roba che prendevo, in modo che così prendo un arco che non mi serve, prendo le canne da pesca che non mi servono. Posso semplicemente fare questo lavoro qua e recuperare i livelli. Altra cosa, ragazzi, sono riuscito finalmente a trovare fortune per il piccone di diamante. E, ta-da, la seconda! L'arco è diventato un arco perfetto, sono riuscito a trovare anche tutti gli incantesimi cercando quelli che mi servivano per il piccone. E quindi sono riuscito a farlo diventare un arco perfetto. Comunque, presa sta roba vediamo se il glitch funziona, perché io non lo so se funziona ancora e non so nemmeno se funziona in survival. Forse si prende addirittura dei danni quando lo si fa, ma noi siamo veri eroi e ci frega molto poco. E vai così, maialino, vai di là. E sono così lenti. Ma perché le hanno fatti così lenti? Spiegatemi una cosa, che se... Perché sei così lento, maialino? Un'altra cosa che ci serve, che ci serve, sono le slab. Eccole qua. Andranno bene queste qua di cobblestone. Me le avevo dimenticate, adesso le ho prese. Quindi mi segue anche così questo maiale. Interessante. Adesso non mi ricordo ben di preciso da che parte si dovesse trovare... Si debba trovare lo spawner. Quindi dovremmo controllare un po' a cazzo di cane tutti i lati. Quindi, se non mi sbaglio, il glitch si fa semplicemente compenetrando uno slebbino. Maialino, passa di qua. Dai, non tirar via il kart. Bravo. Togli questo. Ok. Vabbè, giustamente se non ci sono blocchi sopra. No, maialino, no, no! Maialino, cosa stai facendo? Maialino, maialino, sta calmino. Maialino, maialino, quant'è indecente il tuo sistema di guida. Maialino, maialino. Allora, proviamo a fare così. Ok. No, però sei un figlio di puttana! Là c'è una grotta che non ho ancora trovato. Quello lì non mi sembra uno spawner, quello in alto a destra. Vi farò dei panni e degli zoom a schermo perché altrimenti se no è un casino per voi vedere dove indico. Però è anche perché così vedo meglio anche io. Però quella là non mi sembra uno spawner, mi sembra semplicemente un'aragna che c'è gli occhi rossi e quindi si vedono bene. E qua sopra di noi non vedo niente. Porca tavoglia, maialino, ti faccio... Ma poi guarda, va dove cazzo vuole lui? Dio fa sto porco. E stavolta, porco, è la parola giusta. E non è riferito a Dio. Però, davvero... Guardare 30 secondi... È praticamente impossibile guardare dove volete voi. Dovete sperare che il maiale decida di fare quel che gli indicate. E forse... Forse... Forse riuscirete a vedere quello che volete vedere voi. Maiale di merda. Sto giro proviamo a fare una piattaforma più grande in modo da avere più spazio per poter controllare. Però mi scazzo se non trovo più staffare di ragni. Davvero. Perché cosa è successo? Io ho detto vabbè faccio solo uno screen, però... Poi basta, non mi serve altro. E invece... Poi per sbaglio ho cancellato pure quello screen che avevo fatto mentre che ripolivo un po' la memoria della Play. E quindi adesso mi ritrovo senza le coordinate. Perché giustamente non me le sono salvate da nessuna parte. Vabbè, infilandoci in un buco così che non può andare da nessun'altra parte... Si riesce a vedere un pochino in giro, però... Comunque niente. Nada. Ragazzi, se mi scazza... Uh, la vedo una cassa. Però mi sembra un po' troppo vicino per essere... Una farm... La farm direi mi sembra troppo in alto. Infatti c'è uno zombie là. E la superficie quella là? No, invece è una caverna. La zombie sta in caverna. Aspettate un attimo ragazzi. Va, facciamo una cosa. Allunghiamo un po' la distanza di rendering. Magari così lo vedo meglio. Video. Dove averla bassa, allo stato attuale. Distanza di rendering. Perfetto, così. E... E comunque non si capisce una ciuola. Perfetto. Mi sembra un po' troppo in superficie. E non lo sto trovando. E ciò mi fa arrabbiare assai. Però non penso sia quello. Mi sembra un po' in alto per essere... Un... Mob spawner di ragni. Ragazzi. Ragazzi. 9, 54, meno 451. Ce l'abbiamo. Ho trovato le coordinate. E a quanto pare ce l'avevo in video. L'avevo mostrato in video. Pensavo di no. E invece nel video delle farm. In cui andavo a costruire le farm. Le primissime farm. C'avevo il video. Cioè. L'ho fatto vedere a inizio video. E io ho detto che all'inizio quelle clip. Quel genere di clip. Che non c'entravano magari niente con l'episodio. Le mettevo tutte alla fine. Pensavo che fosse alla fine quel pezzo. E invece no. E all'inizio. Che poi sto spawner davvero un mucchio in alto. Perché si trova ad altezza 54. Il nostro magazzino. Si trova ad altezza 57. Quindi io. Qua è l'altezza dove si trova lo spawner di ragni. E' stra in alto. Comunque 54 ci siamo. Quindi qua per ora faremo una piccola. Un piccolo diciamo. Cunicolo. Che ci porterà alla farm di ragni. Poi una volta che l'avremo finita. Potremmo fare qualcosa di più serio. La parte simpatica. Ma a dire il vero. Manco un po' di tutta sta vicenda. E che. L'abbiamo visto col glitch dell'X-Ray. Questa. Questa. Cassa. Però era in alto. A parte che non vedevo lo spawner. Quindi ho detto. Vabbè. Sarà una cassa che ho lasciato da qualche parte. Pensavo fosse quella. Presente. Che ho lasciato. Ehm. Alla. Alla grotta. Quella sopra che abbiamo decorato. Nello scorso. Episodio. Ma non ho lasciato nessuna cassa. Ci sono arrivato solo adesso. E per di più. Non si vedeva nemmeno lo spawner. Quindi. Non pensavo che fosse. Lo spawner fosse qui. Perché era in altissimo. Io non me lo ricordavo così in alto. Me lo ricordavo ben ben in basso. Cioè ma. Ma che cazzo. Cioè ma quante cose a caso. Stanno succedendo in questo video. Quindi. Mortadella. Non è poi così. Non è stato poi così. Cattivo e scorile nei miei confronti. Non è stato così un animale da. Da uccidere. E maltrattare. Cosa che comunque farò ugualmente. Visto che comunque mi sta un po' sul cazzo ormai. E qui ci sono anche delle liane. Sottoterra. Quindi vabbè. Tutte cose a caso. Ma sì. Ma dai. Prima però. Di andare a. Costruire effettivamente. A scavare sopra la nostra testa. Per vedere effettivamente. Dove si spunta. Voglio. Creare. Una mappa. Per vedere un po'. Dove. Andiamo a finire. Mi pongo una domanda. Che magari è anche stupida. Ma perché in alcune mappe. Si vede. Cosa sto facendo. Dove sono io. E in altre. Come questa qua. Non si vede il cursore. Dove mi trovo io. Forse questa è la differenza. Forse ho scoperto. Perché queste mappe. Me le fa cartare. Solo con. Nove pezzi di carta. E non mi serve la bussola. La rollo di tamburi. Di cui non ho il suono da mettere in post edit. Quindi. Immaginatevelo da soli. E. Zack. Siamo qui. Che non so bene dove siamo. A dire il vero. Dove. Quindi. Siamo dall'altra parte. Però. Non è che siamo molto lontani. No. In realtà siamo. Lontanini. In mezzo un po' alla foresta. 452. Si. È davvero in mezzo al cazzo di nulla. Come non detto. E io. E io che avevo detto. Io avevo detto. Oh si. Ma siamo sicuramente. Ma guarda quanto siamo nel canyon. Guarda quanto siamo nel canyon qua. No. Così è un po' troppo lontano. E dai. Qui è palesemente il canyon. Ragazzi. Palesemente il canyon. Eh. Qui è palesemente il canyon. Questo posto qui. Certo. Cioè. Guarda. Guarda. Non vi dice che un canyon. A parte avere una peccora lì sopra. A caso. Non so perché. Comunque. Questa qua sarà poi. Non lo so dove fare l'entrata. Perché. In entrambi i casi. Non è un gran che. Perché qui è lontano. Dall'arresto. Per poco non spaccavo. Minchia se lo spaccavo. Piangevo sangue. Piangevo davvero sangue. Comunque. Chiudiamolo prima che qualche mob. Poco ben intenzionato. Possa fare un kamikaze da lì sopra. E niente ragazzi. Questa storia fatta di. Avventure. Colpi di scena. E denunce che la peta. Mi manderà molto presto. Si conclude qui. Detto questo. Vi ricordo di lasciare like. Commentare. Condividere. Iscrivervi al canale. Attivare la campanellina delle notifiche. E rispondere anche ai sondaggi. Porca puttana. Che non lo fate mai. Io mi incazzo un pochino. Vi ricordo che se volete un video. Dove vi insegni un po' a buildare. Scrivetemelo nei commenti. E vi so che tanto. Sicuramente. Al cazzo di sondaggio. Non ci avrete risposto. Manco per sbaglio. E mannaggia a me. Mi son dimenticato di dire. Che dovete pregare la betulla. Porca puttana. Porca ma... E manccipo. Ehi. Grazie per la visione!